Ok non so chi mi l'abbia fatto fare però c'era un tipo tempo fa che si chiamava Charizard qualcosa del genere che ha fatto un hack che si chiama stronze moncazzo Abbiamo scoperto che questo ragazzo, bar ragazza spererei di no, ha un sito in cui ha messo il download di stronze moncazzo e il suo seguito stronze moncazzo 2 E dopo che quei bastardi del forum mi hanno convinto a giocarci sto per farci un gameplay in diretta E' la prima volta che gioco questo aborto ok quindi avrò reazioni esagerate probabilmente Cosa cazzo? Wow Masterpaint nuovo gioco Bravo ciao benvenuti Questo è un pokemon il cazzo che scopa tu l'olix di lo 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 vaffanculo Molti si coalizzano con loro per sfidare altre persone malgrado questo profondo da gamma e non sappiamo il tuo sui pokemon Sono molti segreti raccontami se mi buona bimba bimbo Gianni Li meglio spray ma che cazzo Gianni Qua questo è normale però Nel camion Ma che cazzo Gianni Sono qui tesoro il bagione del camion di traslochi deve essere stato faticoso Questa dobbanova ti piace Ba 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 Oh mio dio Tieni questo da parte di Charizard O Che è il capareatore del Gico Bicicross Le cose brutte Ma che cazzo Non è vero niente Oddio A parte che non ho la faccia A parte questo Vabbè lasciamo stare Si sono Gianni ciao sono vera Sicuramente What the fuck Wait a sec Ma che Ma che cazzo Ma non è vero niente Ma che cosa Ma che cosa Posso andare Bene Fammi scendere dalla bici prima Ma che cazzo What the fuck Oh Gesù E' crashato Ma che cazzo Ma che cazzo Oh Dai vediamo di andare a meno Si Abbiamo capito Abbiamo capito Mi chiamo A Tu si che sei forte Oggi Oggi Ovviamente Sceglierò Lui Ok Ba 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 Oh mio dio Ehm Lo chiamiamo Cusci Ok Fatto The fuck Ma che Ma che Ma che Ma non c'è niente Ma cosa Ma cosa Non ha fatto niente E' crashato da solo Si va bene Chan Si Salviamo A quanto pare C'è un pokemon che fa crashare il gioco Quindi procediamo a save state What the fuck Ma che cosa Ma che cosa Non è vero niente Cosa Ce l'ho quasi fatta Dove devo andare Oh Yeee Cosa Cuccia cazzi Ae 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 Vai ebola chan Ehm Shift F2 Cita cazzo Dodge Ciao Ciao Capoglione Se mi batti ti do la medaglia Per usare la mt1 Con taglio Capito Coglione Wow Vai Aha Si vengo Ho capito che hai taglio Mamma mia Ah Ho una master ball Wow Posso usare taglio? Ah Brava Ebola chan Logicamente Ciao Yosnf Ammetta quella con il tettone Se mi batti ti do la medaglia Per suare Forza Se Ce l'hai Prendila dal tuo pokemon starter Lui ce l'ha in mano Assai raffinate Buongiorno Ciao Ciao io sono il Del mio ghefi Dantieni Questo parte Il creatore Si Concordo Si Mi serve un HM slave Non mi ricordo se Sappia Usare o meno Eccola qua Ok Ci fanno i firo a livello 1 Eccolo Raro 8 8 8 Si In questa sala con servimenti di pokemon che hanno superato guerrite lotte Ed è qui che rendiamo magica più della lega Bella roba Best gioco EU Best gioco EU Gioco